Mannaggia a me quando ho deciso di fare il che video è col naso tappato, con il raffreddore, con la gola che mi brucia e non riesco manca a dire le vocali impazzite Ma per fortuna che c'è questa canzone che mi rende vivo Comunque questa canzone la potete trovare sotto in descrizione E sì, ci avrò qualche... 4 maglietta addosso e sembro un orso polare E ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e ben ritornati dopo... Quanto tempo? Un mese? Un mese? Un mese? Ma che ho fatto durante questo mese, Mario? Sul che video? E ragazzi, che bello, siamo ritornati qua insieme tutti quanti su questo pazzo E raffreddato, che video è? Fuori c'è il diluvio universale, ma noi ce ne freghiamo, ma se si spegne il pc per colpo di un fulmine che colpisce casa mia Siamo veramente tutti fregati Ma ora siamo qua e direi di iniziare con i primissimi video di questo che video è Però prima mi devo spiegare come si manda un video, visto che è da tanto che non lo faccio Quindi prendiamo il nostro bellissimo cellulare Come vedete ho un nuovo Huawei Pin of Light che mi è costato praticamente lira divina Ma che adesso non costa niente e quindi grazie Amazon Attivate la connessione Wi-Fi, perché senza connessione Wi-Fi non si può fare niente E andate su YouTube, andate su un video di Dragon Ball, così a caso E poi andate su una freccettina che si trova qua, andate qua, poi andate sotto e poi dovete cercare una Scrivi un'email? No! E poi dovete cercare praticamente questo coso che non si vedrà mai, in cui c'è scritto copia link Voi copiate il link, andate sotto il mio video, mentre scrivete un commento, tenete premuto, mettete in colla E avrete il vostro link del che video è inviato Poi scrivetevi del tipo vocali paziente e siamo tutti a posto Ma ora ragazzi iniziamo Allora andiamo a riprendere l'ultimo che video è Ah no scusate eccolo, un mese fa Allora ragazzi nell'ultimo che video è me mi ha dato 4 mila No aspetta un milione, no no aspetta un attimo 1498 commenti Grazie mille, grazie mille a tutti per tutto il supporto che mi date E per tutto il mese in cui non vi ho portato che video è Però potremmo fare la settimana del che video è Wow! Ragazzi il primo video di questo che video è Iniziamo subitissimo Me lo mando deluquento55stories Che scrive Già iniziamo con le vocali impazzite Lorenzo, ah sì giusto, anzi no, forse sì, ah sì vero Le vocali impazzite In-pan-zite In-pan-zite Hanno mangiato per caso da mia nonna che sono in-pan-zite Ok questa è la squallida, non fateci caso Allora come stai? Spero bene, stai come spero E nabba, allora Ma che cosa sta scrivendo questo? Guardiamo il video e basta Che cosa scrive? Ok presumo che questo video io già l'abbia visto Quindi possiamo direttamente cambiare video Ti ringrazio lo stesso per avermi rinviato lo stesso video E passiamo al prossimo Il prossimo video me lo manda EnderDJ04 Lore Non so Se non fai la reaction a questo video Lo spray per gli occhiali foxy Ti osserveranno mentre dormi Ma perché ce l'avete tutti con lo spray per gli occhiali foxy? Ma ve ne potete stare a casa vostra Tutte e due Vabbè, guardiamo il video Nightcore, we are number one But in Dollhouse E number one Si è baccato YouTube No, bellissimo Che cos'è sta roba? Vabbè, andiamo avanti No, no, raga Non posso Dai, ti prego Nightcore, we are number one Una roba Bellissima Ok, la cosa è figa Il problema è che non esiste un vero droppo in queste due canzoni Però la cosa è talmente figa Che ho deciso di cambiare suoneria E di mettere questa Al diavolo Bendy the Ink Machine Ti ringrazio tantissimo Per avermi inviato questo Nightcore Di we are number one In Dollhouse E passiamo al prossimo video Il prossimo video me lo manda MJ17 Non fidatevi mai dei commenti modificati No, davvero Non fidatevi mai dei commenti modificati Lurre Guarda subito Questo video Se non lo spray per gli occhiali Ti ucciderà nel sonno Metti il volume al massimo Se non si sente niente Ok, andiamo al prossimo Oh no, vabbè A parte gli scherzi Guardiamolo Allora Al massimo Al massimo Al massimo Al massimo Ma no Evitiamo la prossima volta In tutto questo ho aperto Photoshop Ma io non voglio aprire Photoshop Perché ho aperto Photoshop? Ma no Photoshop Che c'entra Photoshop? Vabbè a sto punto Questo è Ratorix Aspettate il tocco di classe serve qua Ok, possiamo andare avanti direi Ti ringrazio per questo bellissimo video Che mi ha spaccato i timpani E passiamo al prossimo video Il prossimo video Il prossimo video me lo manda Samurot di Eren Che dovrebbe essere appunto Eren Quello di attacco dei giganti Ok Ti piace la zucchina? Mi ricorda qualcosa Rinfrescarsi alla fontanella Aspettate Devo bene un attimo No, no ti prego no Aspettate il bagno tutto però Ah, perché? È schifo Però io mi sono ricordato una cosa Voi non lo sapete Ma mi piace la zucchina L'ha creato un canale chiamato Nonno Joe Dove vi era un pupazzo Questo qua Aspettate un attimo Ve lo faccio vedere Ragazzi miei Allora prima di tutto Ecco questo qua Ha creato Mi piace la zucchina E adesso ascoltiamola Mi piace la zucchina Zucchina Mi sento birichina Birichina Di frutta in grano Ma Nonno Joe Quanto era figo Porca di quella miseria Ma ridetemi Nonno Joe Porca miseria Purtroppo è morto Basta Io direi di essere andato oltre In questo video E passiamo al prossimo Grazie Samurot di Eren Per avermi fatto ricordare Il ti piace la zucchina Che è una cosa bellissima E passiamo al prossimo video Il prossimo video Me lo manda Tamara official Lore guarda questo video Se no non so chi ti uccide Ma qualcuno in teoria Mi dovrebbe uccidere Ok guardiamo il video Wow 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 Fox sky kirby smash Drop step gutter Andiamo Ho mutato il video Epic fail Vai al drop Questa canzone mi ricorda qualcuno Ah ecco chi Ok dopo questa canzone Merito almeno 100.000 iscritti E possiamo andare avanti Grazie mille Ragazzi Io direi di passare Ai commenti Più recenti E vedere Due video Dei commenti Più recenti Il prossimo video Me lo manda Comic sense 89 Danza pazza Nient'altro Mi ricorda qualcosa Poi come faceva La canzone originale Ve la ricordate Ti ringrazio moltissimo E ora ragazzi Siamo qua Lo so lo so Mi duole dirlo Ma L'ultimo video Di questo che video è Chi me lo manderà E l'ultimo video Di questo che video è Lo vince Hashtag XX FraxXX No aspettate un attimo XX Hashtag Vag Lorenzo Guardalo Guardiamo il video Ultimo video di questo che video è Che sarà mai Epic Wolf Guy Io posso soltanto Finire il video così Ok ragazzi Io vi ringrazio Sempre Per tutti I magnifici video Che mi mandate Sotto ogni che video è Ora che sapete Come si manda un video Inviatemene Un botto Tantissimi Il prossimo che video è Uscirà la prossima domenica E ragazzi Se non siete ancora iscritti al canale Che cosa aspettate Iscrivetevi Immediatamente Lasciate un like Per un prossimo che video è 1500 like Per il prossimo che video è Mi raccomando La prossima domenica E noi Ci rivediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti